Musica Ben ritrovati ragazzi all'angolo dei videogiochi di Daniele sono precisamente mezzanotte e 50 minuti e quindi buon Natale a tutti ben ritrovati in questo video un vlog molto veloce nel quale andremo a fare anche un unboxing un doppio unboxing anche se uno dei due giochi in realtà l'ho già aperto allora innanzitutto da oggi in poi qua sull'angolo dei videogiochi di Daniele torneranno i video vecchia maniera quindi vedrete man mano che farò i video il netto cambiamento il netto cambiamento intanto è partito con il fatto che abbiamo la Canon come macchina da presa la Canon 1200D è questa non ho fatto l'unboxing comunque è questa la camera con la quale da oggi in poi andrò a fare i video quindi torneranno le recensioni torneranno altre nuove rubriche quindi rimanete sintonizzati adesso andiamo con i regali di Natale che ho ricevuto partiamo con Donkey Kong Country Tropical Freeze per Nintendo Wii U un gioco che non avevo ancora giocato regalato dalla mia ragazza un disco di gioco ecco qua un unboxing molto veloce il gioco è già stato aperto l'isola Donkey Kong è stata surgelata l'arrivile avventura su sei differenti isole gioco fantastico per Wii U dovrebbe essere il primo e unico Donkey Kong su Nintendo Wii U gioco eccezionale gli è farti i messaggi Dio fa anche a Natale mi fanno dire e poi l'altro gioco che è stato regalato sempre dalla mia ragazza ovvero PES 2015 il prossimo anno darò una chance a PES nel senso che non acquisterò FIFA per la prima volta ma passerò a PES perché già questo capitolo dalla demo mi avrà convinto vado a scartarlo così in diretta vado quindi a scartare questo gioco per PlayStation 4 lo ricordo tutti lo prezzo adesso ci vado a fare subito qualche partita ecco qua non c'è libretto non c'è nulla questo è il disco di gioco non so che cazzo si veda da lì poi qui ci sono Road to Berlin Road to Berlino vabbè ma se c'è da vincere i biglietti per la finale della UEFA Champions League a Berlino e giocare a PES 2015 a bordo campo e se ancora non bastasse ci sono in palio un valore di oltre 25.000 euro scopri maggiori informazioni su psleague.com è una cosa inutile quindi ragazzi questo era un doppio unboxing molto veloce dietro c'è scritto il campo è nostro un nuovo sistema di tiro massima precisione nella potenza e nel posizionamento passaggi autentici una fisica della palla unica per passaggi sempre diversi vabbè poi c'è uno contro uno intelligenza artificiale da tutto campo una difesa versatile tempi disposti straordinari Fox Engine la tecnologia di Kojima Production è stata ottimizzata per il calcio ben tornato al vero PES questo è il commento di Multiplayer.it beh questo è il doppio unboxing di due giochi che vi sono stati regalati questo Natale probabilmente arriveranno altri regali forse anche altri giochi non lo so comunque domani torneremo con il video delle barzellette con la 25esima barzelletta perché come avrete ben visto qua sul canale ho fatto dal primo al 31 dicembre ogni giorno una barzelletta quindi domani torniamo con la 25esima quindi rimanete sintonizzati io dico domani ma in realtà sarebbe poi intorno alle 2 del pomeriggio così del 25 dicembre perché è già il 25 dicembre è già Natale bene ragazzi mi fermo qua mi sono già dilungato troppo gli ho fa mi fermo qui ritorniamo presto con altri video quindi rimanete sintonizzati un saluto a tutti e ancora buon Natale a tutti e vieni in una grotta al freddo e al gelo e vieni in una grotta al freddo e al gelo oh bambino mio divino io ti vedo qui a tremar oh Dio beato ahi quanto ti costò l'averci amato ahi quanto ti costò l'averci amato a tutti buon Natale grazie a tutti